cosa fai wendy a destra si vede la costellazione dell'arcobaleno ma vedo la luna e ho passato tutta la notte a lavorare alla tua nave spaziale sono un genio me sì io volevo solo che wendy vedesse la sua costellazione della stella blu ha trovato la soluzione potremmo inventare la bolla perfetta la super bolle 3000 più macchina speciale per bolle